Taranto è la risorsa mare. Guardate che spettacolo. Ci troviamo nella città vecchia, il lungomare Garibaldi, la storia di Taranto con la sua marineria. Ma voglio farvi vedere anche le condizioni penose e pietose in cui si trovano a lavorare gli operatori. Vedete qui abbiamo tutta una serie di banchine in legno che sono divelte, sono rotte, ci sono dei tratti mancanti e diventa davvero pericolosissimo per loro stessi, per gli operatori, camminare nonché per i turisti. Guardate un po', vi farò vedere vari tratti, ma pensate un po', qui abbiamo questi due tratti, queste due banchine che sono collegate in maniera rudimentale, artigianale, da due travi. Pensate i rischi che si corrono. Ma le banchine sono rotte, mancano proprio i pezzi di legno, le singole travette. Ecco, qui addirittura gli operatori sono stati costretti ad arrangiarsi, a mettere una trave per non andarci a finire dentro. Perché poi è chiaro che di notte... Ecco, diceva? Ecco, sento i sovarecchie volte che abbiamo fatto male qua. Ecco, dicevo di notte, ovviamente i pescatori escono con il buio e quindi chiaramente non è illuminato e si cade facilmente, si rischia di farsi male. Pensate qui, qui addirittura c'è questa travetta che sta cedendo, lo stesso qui, ma potremmo andare all'infinito. Ecco qui, guardate, altro scempio. Anche qui ho messo un tavolone per coprire il vuoto, i pezzi di legno che mancano. Io, l'amministrazione Melucci si sciacqua la bocca con tante favole, parla di ecosistema Taranto, parla di Taranto capitale del mare, poi ogni giorno, ogni giorno non ascoltando le sacrosante lagnanze degli operatori, ogni giorno schiaffeggia gli stessi. Ma è un danno anche per il turismo, per coloro i quali, attratti dalla bellezza, guardate, è fantastico il panorama. Il turista viene, fa due passi e rischia di farsi male, rischia di cadere lungo la banchina che è appunto costellata di queste trappole. Si può vivere in queste condizioni? No, non possono fare male, sai quante persone cadono qua, percorriamoci l'estate, e si fanno male. Ma voi anche di notte camminate chiaramente in buio. Mi è capitato un paio di volte, pur che lo sappiamo, eppure sono cadute. Guardate, eppure ci vorrebbe poco per sistemare. Penso di sì. Da quanto tempo è così? Un anno, un anno passato. Da sempre è stato così, da sempre, da sempre. È sempre stato. Il problema è che, lo dicevo prima, voi camminate, andate a lavorare la mattina col buio e si cade. Vengono anche i bambini, vengono. Guardiamo a terra, non guardiamo avanti la banchina, guardiamo a terra. Un danno per i bambini, per i turisti? Per i turisti, per tutti. Ci sono stati in casa, ci sono fatte male le persone. E il comune non ha detto manca in euro. Il comune ha sparito, si faceva dei provi. E allora il turista fa due passi. Ovviamente, come detto, non ha gli occhi a terra. E ci va a finire dentro. Ma non solo qui, fosse solo qui. Potremmo andare qui. Potremmo spostarci, anzi ci spostiamo. Guardate, altra trappola. E per completare, ma per modo di dire, perché potremmo stare da oggi fino all'anno prossimo a farvi vedere tutti questi tratti della banchina di Sastrati. Qui addirittura, guardate, è divelto il pannello di ferro, completamente divelto. Un pericolo grave, oltre per i turisti, ma anche i bambini. Qui vedete, i ragazzini vanno a mare, giocano. E questo è un pericolo, un pericolo gravissimo. Stiamo parlando di ferro, ruggine, arrugginito. Guardate qui. Non ho altre parole. Perché a me dà fastidio soltanto l'ipocrisia di Rinaldo Melucci e della sua maggioranza. La falsità politica. Perché questa è falsità. Questo è un sindaco, è un'amministrazione che prende per i fondelli i cittadini. Prende per i fondelli innanzitutto gli operatori del mare. Ed è grave perché Melucci viene da una storia, da una famiglia legata alle attività del mare. Molto ma molto grave. Se ne strafotte Melucci di Taranto, dei tarantini e degli operatori del mare, dei pescatori. Però si sciacqua la bocca dicendo Taranto, capitale del mare. Questo è Rinaldo Melucci insieme a tutta la sua amministrazione, compresi i suoi ex amici del PD che ora si sono distaccati ma non possono cancellare le loro colpe e responsabilità politiche. Molto gravi.